Allora capito cosa deve fare, forza! Non si guardi intorno, si sbrighi! Mi sbrigo anche, ma qua non vedo neanche una tocca. Qui fra l'altro vorrei dormire un po' perché è proprio un problema anche di stomaco. Che schifo! Se vi ritirerai devi risparmiare la vita! No, non ci ritireremo! Guarda come si ritirano, ecco, guarda come gli salviamo la vita. Dai, circolare, forza! Ma cosa sto facendo? Sto facendo, c'è una panchina, mi riposo, no? Vabbè, ma quel povero bambino? Povero bambino intanto la panchina non è la sua. E poi questo qui è un guerrafondaio, io l'ho visto, io sono contro ogni forma di violenza. Porca! Aia! Vabbè, ma così non troverà mai una donna che la baci. Ragazzi, non continuate a tediarmi oltre, adesso io mi metto qua. Forza, una che mi bacia, che passa di qui la troviamo, forza. Potento lei. Buonanotte. Questo non respira più. Chiamate qualcuno. Via, fatemi passare. Sono una dottoressa. È la dottoressa Gio. Vabbè, ma questo non fa troppo fuoco. Non è possibile. È uno scandalo. Ancora? Pure. Basta!